Gesù mio, figlio del Dio vivo, eccomi qui in compagnia della Santissima Vergine, degli angeli, dei santi del cielo e dei giusti della terra, per farti visita e adorarti in questa ostia consacrata. Credo fermamente che tu sia presente, potente e glorioso come lo sei in cielo e per i tuoi meriti spero di raggiungere la gloria eterna, seguendo in tutto le tue divine ispirazioni. In segno di gratitudine per il tuo amore divino voglio amarti con tutto il mio cuore e la mia anima, con le mie capacità e i miei sensi. Ti supplico, Salvatore della mia anima, per il sangue prezioso che hai effuso nella tua Santissima Passione, congedendomi per intercessione della tua Madre Santissima i doni della preghiera, insieme alla perseveranza per chi, quando lascerò questa vita, tu possa guidarmi alla gloria eterna di cui godi in cielo. Amen.